Ciao ragazzi, oggi ti voglio leggere una lettera di Seneca scritta al figlio Lucillo circa 2000 anni fa riguardo al tempo, all'utilizzo del tempo e al valore che diamo al tempo e anche di conseguenza quindi al denaro. Appunto una lettera di 2000 anni fa ma quanto mai attuale. Comportati così, Lucillo mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il tempo che fino ad oggi ti veniva portato via o carpito o andava perduto. Raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è proprio così, come ti scrivo. Certi momenti ci vengono portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel vento. Ma la cosa più vergognosa è perdere tempo per negligenza. Pensaci bene, della nostra esistenza buona parte del tempo si dilegua nel fare il male, la maggior parte nel non fare niente e tutta quanta nell'agire diversamente dal dovuto. Sei tu per caso in grado di indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata e soprattutto che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte, la vita passata. Dunque, Lucillo caro, fai quel che mi scrivi. Metti a frutto ogni minuto. Sarai meno schiavo del futuro se sceglierai di impadronirti del presente. Tra un rinvio e l'altro la vita se ne va. Niente ci appartiene, Lucillo. Solo il tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo solo bene, fuggevole e labile. Chiunque voglia può privarcene. Gli uomini sono spesso tanto sciocchi che se ottengono beni insignificanti, di nessun valore e in ogni caso compensabili, accettano di buon grado che vengano loro messi in conto. E invece nessuno pensa di dovere niente per il tempo che ha ricevuto, quando è proprio il tempo l'unica cosa che neppure una persona riconoscente può restituire. Ti chiederai forse come mi comporti io che ti do questi consigli. Te lo dirò francamente. Tengo il conto delle mie spese da persona prodiga ma attenta. Non posso dire che non perdo nulla, ma posso dire che cosa perdo e perché lo perdo e come lo perdo. Sono perfettamente in grado di riferirti le ragioni della mia povertà. Purtroppo mi accade come la maggior parte di quegli uomini caduti in miseria non per colpa loro. Tutti sono pronti a scusarli, nessuno è pronto a dar loro una mano. E allora? Allora una persona alla quale basta quel poco che le rimane per vivere felice non la considero affatto povera. Ma è meglio che tu conservi tutti i tuoi averi e comincerai a tempo utile a liberartene. Perché, come dice un vecchio adagio, è troppo tardi essere sobri quando ormai si è al fondo del bicchiere. E al fondo non resta solo il meno, ma il peggio. Stammi bene. Cos'altro aggiunge? Fuori e dentro, il viaggio continua. Namaste.